Il peggioramento delle condizioni di sua figlia è stato causato da quello che le ha iniettato. Ho testato il farmaco, è stato questo il mio lavoro per dieci anni. Emily è sua figlia, non una cavia da laboratorio. Prima l'ho testato, su me stessa. E in sei mesi non ho riscontrato alcun effetto collaterale. L'esperimento su una sola persona è irrilevante. Le infezioni respiratorie sono comuni in questa malattia. Con la mutazione che ha Emily, sono letali e peggiorano ogni anno. Il Lex 2 non verrà approvato per almeno altri cinque anni. Emily invece non sarebbe sopravvissuta all'inverno. Che cosa avrei dovuto fare io? Servono degli studi per l'approvazione dall'FDA. Uno studio al Jackson Memorial. Lo so della ricerca di Gain, la pubblicherà tra un mese. No, ci ho appena parlato. Il suo team ha scoperto che il Lex 2 causa insufficienza renale nei ratti. Faremo una biopsia renale ecoguidata per valutare i danni. Spero che siano reversibili. Grazie. 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 Grazie.